Post partita di Cielo Necus Molise Canosa siamo con mister Sanginario, una gara mantenuta in bilico almeno nei primi 2-3 minuti poi dominata dal Cielo Necus Molise, sei d'accordo? Finalmente sì, una prestazione veramente diciamo quasi perfetta, l'orgoglio di avere in campo giocatori del 2000-2001 che tengono il rettangolo di gioco in maniera egregia, due nomi su tutti che possiamo dire sono Vaino e Pietrangelo che veramente oggi sono stati ingomiabili. Una tranquillità che si è vista in campo in questo Cielo Necus Molise, forse la sosta è servita in queste due settimane di lavoro per poter preparare gli schemi che chiaramente tu mettevi in pratica più e più volte in questa stagione? Sì, c'è un'amalgama ho visto oggi che nelle altre volte non si è notata diciamo, non perché non abbiamo giocato bene, abbiamo fatto belle partite però oggi avevamo una compattezza diversa dalle altre volte e forse anche la brutta sconfitta a Prato ci ha dato quel motivo in più per reagire, di questo ne sono contento e ringrazio tutti i ragazzi. Ecco, come hai visto il Canosa? È una formazione che forse noi ci aspettavamo un tantino meglio rispetto a quella che si è vista in campo, forse sembra essersi arresa per il treno playoff? Non credo, non credo perché ha degli ottimi giocatori e ha un campo dove possono mettere in difficoltà tutti. Io onestamente non so dove arrivino i meriti del CLN e dove iniziano i meriti del Canosa oggi, però certo è che una partita del genere dal CUS non l'abbiamo mai fatta, diciamo con questo collettivo, con questo spirito di sacrificio da parte di tutti, ecco quello che si è visto oggi non si era mai visto, quindi siamo contenti, però rimaniamo veramente con i piedi a terra perché abbiamo una rosa giovane, un gruppo veramente giovane, oggi l'infortunio di Barichello ci pregiudica forse, speriamo, ancora dobbiamo vedere, il ragazzo comunque ha preso una bella botta, però insomma diamo fiducia, guardiamo più che altro al futuro con uno sguardo più roseo perché insomma chi ha visto la distinta oggi capisce che si sta lavorando per i prossimi anni e non solo per quest'anno. Ultima domanda, ci sono due mesi di campionato, si può puntare ancora ai playoff dopo questi bei tre punti e poi la prestazione di Barichello che hai citato poc'anzi, quattro gol da partire da un giocatore che ha fatto vedere delle cose in campo soprattutto oggi davvero mirabolanti, pazzesche. Sì vabbè Barichello lo sappiamo, lo conosciamo bene, però oggi l'hanno messo in condizioni di fare queste cose anche i compagni onestamente e credere nei playoff, noi ci crediamo ovviamente, siamo lì, siamo un punto, nonostante tutte le disavventure vissute in una stagione tribolata però siamo lì, siamo a un punto dai playoff, a tre punti dalla Chaminade, mancano ancora un po' di giornate abbiamo qualche partita in casa che ancora possiamo dire la nostra, ce la giochiamo fino alla fine consapevoli però che non abbiamo una rosa e un organico che deve puntare per forza ai playoff.